I carabinieri della locale tenenza e della sezione operativa della compagnia di Agrigento con l'ausilio di due unità genofili a seguito di una perquisizione domiciliare delegata dalla Procura della Repubblica, venuta a Favara, hanno tratto in arresto in fragranza di reato, in concorso, in detenzione illecita di sostanza superfacente ai fini di spaccio due conugi, un 52enne e una 51enne residenti entrambi a Favara, con precedenti di polizia nello specifico e militari nel corso di un'accurata perquisizione dell'abitazione dei due conugi, hanno rinvenuto nella loro disponibilità 28 grammi di sostanza superfacente del tipo cocaina, un bilancino di precisione, la somma complessiva di circa 3.440 euro, ritenuta provendo di attività di spaccio. Lo stupefacente, il bilancino di precisione e il denaro venivano pertanto posti sotto sequestro, mentre le due persone ultimate le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, sono state poste presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida. Il GIP del Tribunale di Agrigento, nel convalidare gli arresti, ha disposto per entrambi la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Con prescrizioni, il successivo giudizio di merito servirà a vagliare la responsabilità personali le quali non sono definitivamente ancora accertate.